Io sono Paolo del Sordo, avevo ai tempi 13 anni, sono di Savona, però in quel periodo abitavo al Bissola. Al Bissola c'era lo stesso clima, la stessa situazione di Savona. Quindi, dopo le prime bombe, è successo che i miei genitori, io facevo terza media direi, i miei genitori, coinvolti da questa cosa, hanno cominciato a fare, intanto a riunirsi e a fare presenza nelle varie scuole la sera, era chiaro che difficilmente avrebbero colto in flagrante i biechi fascisti, però era una questione politica e questa cosa la ricordo bene, ricordo il clima, che nonostante ci fosse di tensione proprio per il discorso delle bombe, però c'era una solidarietà, era una situazione tipica di quel periodo, che ora non ci ricordiamo nemmeno lontanamente, era una bella situazione, insomma, nell'ambito della drammaticità. Non erano tutti d'accordo, non erano tutti come i miei genitori, secondo me c'erano tre grossi tipi di reazioni, di gente in quel periodo, perlomeno quelli che avevano dei figli, che li posso ricordare io. Quelli che non hanno neanche capito cosa sta succedendo, per cui non è cambiato nulla, non era cambiato nulla, non leggevano i giornali, non gliene poteva fregare di meno. Quelli che io definirei reazionari o conservatori, che ci, uso il plurale, ci pigliavano in giro dicendo che non aveva senso questa cosa, che eravamo dei biechi comunisti, e poi c'erano invece coloro i quali erano solidali e, seppur consapevoli che quella cosa probabilmente sarebbe stata inutile, però era un messaggio che si dava a coloro i quali spingevano poi quella che sarebbe diventata poi la strategia della tensione e nei confronti del governo. E questa cosa qui è una cosa che, ripeto, che allora i miei so che hanno molto gradito, hanno fatto un sacco di conoscenze, ci hanno perso delle nottate, si sono divertiti, ed era un clima che, come dire, che io ora rimpiango un po', e sicuramente anche i miei rimpiangono un po'. La parola chiave potrebbe essere solidarietà e, come dire, attivismo, una reazione nei confronti delle cose che vanno capitando, una reazione politica e sociale nei confronti delle cose che vanno capitando, cosa che adesso non mi pare succeda, o meglio, magari succede, succede però per delle cose che non hanno senso, secondo me, tipo la reazione nei confronti di una malattia, gente che va in piazza perché, appunto, perché si sente mancata la libertà grazie a un virus e non per altri motivi che, secondo me, dovrebbero essere più validi per andare in piazza. Però io ho avuto la fortuna di avere amici, parenti, tutti più vecchi di me, cugini vari che ne avevano dai 18 ai 20 e che, invece, non hanno mancato per partecipare e che mi raccontavano, tra l'altro in città magari più grosse, tipo Torino, dove le cose succedevano veramente, non come Savona, dove, a Dio piacendo, non c'erano grossi problemi, a parte le bombe, e quindi mi coinvolgevano in questa cosa, avevamo una famiglia un po' tutta, nel senso più largo del termine, politicamente coinvolta, per cui, insomma, mi sentivo a 13, ero piccolo perché 13 anni sono pochi, però mi sentivo già schierato e che dire, e poi lo sarei stato subito dopo perché, insomma, poi a 14, 15 ho cominciato a fare ragioneria e qualche cosina, seppur a Savona qualcosa succedeva e, insomma, le manifestazioni ci sono andato presto, insomma. Tutto si è dimenticato, direi, direi che tutto quello che riguarda un modo di, un modo, come posso dire, tutto un periodo che ci ha riguardato e che ha riguardato delle scelte che erano scelte politiche, sono state totalmente dimenticate, era un modo di pensare che è stato dimenticato, a me non stupisce per niente, è una logica conseguenza di come stanno andando le cose, il qualunquismo imperante è che sta facendo il suo lavoro, come dire, seppur detto male. Non saprei com'è altro, addirittura è possibile che ci sia anche un atteggiamento che sia stato fatto scientificamente, voglio dire, quando hanno chiuso le indagini, non credo, sì, ci sono degli articoli, però non mi pare che sia stato fatto un battagio, voglio dire, nessuno si è accorto che a un certo momento scolastico ha detto, va bene, basta, non ci sono più, come si dice, le indagini sono chiuse. Fa parte tutto di un certo tipo di atteggiamento che è molto, come si dice, che è funzionale al qualunquismo imperante, io lo chiamo qualunquismo anche se forse è un termine un po' datato.